Questo programma è offerto da Il 29 gennaio scorso due cittadini stranieri furono aggrediti da un gruppo di giovani ragazzi Ieri, a distanza di mesi, altri tre membri della baby gang in questione sono stati identificati dai carabinieri Giustizia è fatta dunque nei confronti dei due malcapitati originari da Bangladesh, pestati e rapinati dai ragazzini I giovani delinquenti, infatti, si sono impossessati di vari accessori per cellulari e oggetti vari che le vittime vendevano nelle loro bancarelle All'empoca dei fatti, soltanto due componenti della baby gang furono fermati dai carabinieri e accompagnati verso il centro di prima accoglienza Malaspina di Palermo Ma le indagini non si sono fermate e grazie al lavoro delle forze dell'ordine sono stati così individuati gli altri tre giovani delinquenti Diverranno presto in realtà un pronto soccorso sociale ed un centro antiviolenza a Bagheria Il comune di Bagheria ha infatti bandito due bandi relativi a due diversi beni confiscati riguardano rispettivamente la realizzazione di un pronto soccorso sociale da realizzarsi sul bene confiscato di via Incorvino e la realizzazione di un centro antiviolenza e casa di accoglienza da realizzarsi in via Pergolesi Il fondo cui si accederà per la realizzazione dei due progetti è il fondo dell'assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro I bandi relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata sono scaricabili dal sito comunale della sezione Albo Pretorio Online insieme a tutti i documenti di gara Sono due progetti importanti per la città di grande valenza sociale avviati dalla precedente amministrazione cui va dato il merito e sposati in toto da questa amministrazione perché corrono in aiuto di categorie che stanno in aumento considerata la grave crisi economica che attanaglia non solo Bagheria ha dichiarato il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque Donne vittime di violenza, minori, persone con disagi sociali potranno contare su questi aiuti che presto diventeranno realtà Un match che ha sicuramente regalato emozioni quello tra Napoli e Palermo nonostante il pareggio finale All'inizio il destino del Palermo sembrava segnato a causa dei due gol dei partenopei nei primi 11 minuti ma la reazione da parte di Rosanero non è mancata grazie a Belotti e Vasquez Sul finale ci pensa nuovamente al Gallo a riacciuffare gli azzurri che alla fine non riescono nuovamente a gestire il vantaggio Un solo punto per il Palermo che però vale molto è che aiuta la squadra di Iachini a proiettarsi meglio nella prossima sfida in casa contro la Lazio Venire al Napoli e fare tre gol e non portare a casa la vittoria fa un po' strano però è chiaro che abbiamo giocato secondo me una buona gara peccato all'inizio un po' così e così però alla fine abbiamo avuto una forza grandissima per poter rimontare la partita due volte e alla fine credo che il pareggio sia giusto Sono il giocatore anagraficamente più vecchio e quindi devo cercare di dare esperienze di trasmettere serenità a una squadra parecchio giovane quindi puoi parare il mio mestiere quindi va bene così Andrea è un bravo ragazzo un attaccante forte è giovane ha tanto futuro davanti a sé quindi noi ce lo teniamo bello stretto e ce lo coccoliamo è una sensazione bellissima sono contento di aver fatto una doppietta contro una squadra veramente forte come il Napoli in uno stadio dove sono passati grandissimi attaccanti ma grandissimi giocatori ho partecipato anche alla Champions League sicuramente posso dire che sarà una serata che non mi dimenticherò di certo siamo partiti subito con Mari preso gol con il Roninostri prima una disattenzione su calcio d'angolo secondo ancora su una palla lunga che ci ha fatto male anche nel terzo gol sicuramente dopo i primi due gol non ci siamo scomposti non ci siamo abbattuti ma abbiamo continuato a lavorare dopo aver trovato il 2-1 su un calcio d'angolo siamo riusciti a parigiare una partita con una bella azione peccato aver subito gol ancora a fine primo tempo al 45esimo però siamo stati bravi anche a riprenderla ancora nel secondo tempo e anche a rischiare di portarla a casa diciamo che ci sono state molte occasioni ma anche nel primo tempo in cui l'abbiamo trovato molto scoperti loro abbiamo appunto soprattutto non quando mi ha fatto gol ma anche in altre occasioni che magari potevamo essere più lucidi sotto la porta poi alla fine ho avuto un'occasione io ho preso il pale alla fine il cross in mezzo di Emerson che non è arrivato nessuno però si riusciva a portare a casa il risultato tu sei sexy sexy danza che si sono state molte che si sono state molte In un ambiente In un ambiente ancora più glamour Rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50 E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno Non rischiare, resta sulla buona strada Grande appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della mountain bike Per il secondo anno il campionato internazionale Bluegrass Enduro Tour sbarca in Sicilia Dal 26 al 28 settembre sarà di scena nelle badonie tra Castelbuono e Pollina La più grande festa del mountain biking siciliano Il playoff del circuito è i Guardiani del Tempio, il circuito internazionale di gara blind Organizzato dagli instancabili gestori delle madonie MTB Resort Dal nome si evince facilmente che tutte le gare saranno rigorosamente blind, cieche Ovvero nessuno potrà provare il tracciato prima delle gare Quella delle madonie sarà l'unico appuntamento italiano del circuito internazionale La tappa italiana sarà un evento a numero chiuso, articolato in due giornate Il venerdì un prologo ed il sabato la gara sui traccetti delle madonie MTB Resort E fuori dalla competizione anche un'esibizione in compagnia dei più famosi specialisti della disciplina sportiva Si partirà dunque venerdì pomeriggio dalle 15 con il prologo nel territorio di Pollina Una location unica e spettacolare dove i partecipanti all'evento dovranno districarsi tra le mille curve scalinate del comune madonita Sabato dalle 9 nel comprensore siciliano delle madonie MTB Resort Esiterà il gran finale del Bluegrass Endure Tour Una miriade di percorsi che si snodano sulle cima montana più alta della Sicilia Il massiccio della Carbonara Infine domenica 28 settembre dalle 10 Tutti gli appassionati e i fans di questa vincente sport potranno divertirsi insieme ai più grandi campioni dell'enduro mondiale Dal 2010 l'oratorio di San Giovanni Bosco di Lascari sotto il patrocinio di Noia Associazione Porta avanti con grande successo il seminario sul primo soccorso Quella di quest'anno sarà la quinta edizione e conta già più di 200 iscritti E senza il prezioso intervento di professionisti sanitari competenti disponibili a formare ed informare la cittadinanza Tutto questo non sarebbe possibile Il corso è aperto ai cittadini di tutte le età e professioni che vogliono apprendere le basilari norme comportamentali Di fronte ai traumi acuti più frequenti e rilevanti Conoscere le modalità di intervento e di comportamenti da mettere in atto per prevenire e gestire l'evento traumatico può essere decisivo Il ciclo di incontri inizierà il 1 ottobre 2014 ed avrà una durata di due mesi Con incontri bisettimanali serali che potranno permettere anche ai lavoratori e ai studenti di poter frequentare Da quest'anno il programma si arricchisce di un incontro formativo sulle tecniche di somministrazione terapeutica di semplice esecuzione domiciliare Il corso si concluderà con l'addestramento alle manovre BLS, riconoscimento dell'arresto cardiaco, massaggio cardiaco e ventilazione artificiale E con le manovre di disostruzione delle vie aeree, meglio conosciuta come Mossa di Heinrich Misilmeri, giornata mondiale del cuore Si terrà domenica 28 settembre la giornata mondiale del cuore organizzata dalla World Health Federation Associazione che promuove la campagna per la riduzione delle malattie cardiovascolari in oltre 100 paesi del mondo La giornata del cuore quest'anno vuole evidenziare le scelte sane per il cuore nell'ambiente familiare e di lavoro Il poliambulatorio di Misilmeri Medical Center, nato anche come estensione del Marielle Nora Hospital, struttura sanitaria di alta specialità Sarà il luogo in cui si erogheranno i consulti cardiologici gratuiti per la giornata E si daranno consigli su come riconoscere e promuovere un ambiente sano per il cuore Il poliambulatorio effettuerà i consulti gratuiti dalle ore 18 su prenotazione Chiamando al numero telefonico 091 87 33 597 dalle ore 8 alle ore 14 dal lunedì al venerdì Il 26, 27 e 28 settembre 2014 si svolgerà per iniziativa di Lega Ambiente Puliamo il Mondo Edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo Il comune di Bagheria, pur non aderendo istituzionalmente all'iniziativa di Lega Ambiente Lo ha fatto fattivamente organizzando una manifestazione parallela ma con gli stessi intenti Pulire la città, dare il buon esempio, educare all'amore per l'ambiente Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha lanciato quindi l'iniziativa E' stato creato sul social network più famoso del mondo, Facebook, l'evento Puliamo Bagheria Tutti coloro che parteciperanno all'evento lo condivideranno sui propri account Potranno indicare una zona, un quartiere, una strada da pulire E le zone che avranno ricevuto il maggior numero di segnalazioni verranno pulite dai volontari che aderiranno all'iniziativa Una delle iniziative proposte è la pulizia ed il lavaggio dello spazio antistante alla propria abitazione Il tutto verrà dunque realizzato ed organizzato in sinergia con la città Direttamente sul social network dove sino al 26 verranno fornite ulteriori informazioni Tutto il materiale necessario per la pulizia della città delle ville verrà fornito dall'amministrazione comunale Scope, sacchetti, guanti, paletti e così via Auspico grande partecipazione da parte dei giovani, delle famiglie e del mondo scolastico Ha dichiarato il sindaco delle ville La cura del patrimonio ambientale è nel nostro DNA Nello stile del movimento cui appartengo E lo dimostrano le diverse grilla gardening organizzate sia quando non amministravo questa città che adesso You sexy sexy dancer E lo dimostrano le diverse grilla In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da salvo militello parruccheria Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000 Firma a favore di Apriti Cuore Onnus A te non costa nulla in più ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli Bambini vittime di maltrattamenti e abusi Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica Aiutaci anche tu La più bella di Villabate è lei, Laura Lazzarotti 19 anni villabatese doc, studentessa universitaria di scienze del servizio sociale Sabato scorso la Miss ha indossato la fascia vincendo la prima edizione di Miss Villabate Manifestazione organizzata grazie al patrocino del comune di Villabate La giovane Laura ha conquistato i voti grazie ad una giuria di qualità e i mi piace degli amici di Facebook Avendola meglio su ben 20 sfidanti Il secondo posto è andata a Vanessa Spanò e il terzo posto a Gresi Mannina Oggi la dolce spigliata Neoletta Miss è venuta a trovare le telecamere di Canale 8 Benvenuta a Laura Lazzarotti, la nuova Miss Villabate Sì Prima edizione, prima Miss Un grande successo, come ti senti a 5 giorni dalla tua elezione? Sono ancora abbastanza emozionata perché non mi aspettavo questa vittoria E quindi sono entrata in un mondo che non lo so è abbastanza strano per me Quindi insomma ancora devo farci l'abitudine Dunque sono abbastanza emozionata E al momento della proclamazione hai pianto? Quali sono state le tue emozioni? Beh, non ho pianto anche se sono abbastanza sensibile Perché credo che la gioia che ho provato è stata immensa Quindi insomma il sorriso non bastava Era la tua prima esperienza in passerella? No, non è stata la mia prima esperienza, bensì l'ottava Ah, cosa hai fatto in precedenza? Eh, ho sfilato per alcune case di moda E ho fatto appunto sfilate di moda a Palermo, Villabate, Missilmeri e così via Il ruolo dei tuoi genitori in questa esperienza qual è stato? Mi hanno sopportata e sopportata soprattutto in questi giorni di preparazione per il concorso E insomma mi sono stati d'aiuto Qual è stato il tuo rapporto con le altre concorrenti? Ma all'inizio non le conoscevo tutte Siamo tutte di Villabate Diciamo che nel corso insomma dei giorni è nata una bella amicizia tra alcune di noi Cosa è cambiato nel tuo quotidiano dal giorno delle tue lezioni? Amici, parenti, sui social network, cosa è successo? Ma innanzitutto mi sono arrivati tantissimi commenti da parte insomma di tutta la gente villabatese Congratulazioni, auguri, insomma veramente mi si è riempito il cuore con tutte queste persone Cosa ti aspetti da Miss Villabate? Mi aspetto tanto, spero comunque di poter raggiungere alcuni obiettivi della mia vita E questo è soltanto un trampolino di lancio Il tuo sogno? Beh il mio sogno è uno, il più importante Spero in un futuro di poter lavorare presso il tribunale minorile Appunto per la tutela dei minori Perché tu studi, ricordiamo i nostri telespettatori Studio scienze del servizio sociale appunto per la tutela dei minori Quindi diciamo un futuro non nel mondo dello spettacolo Beh no, questo è il mio obiettivo principale Poi ho un piccolo sogno veramente Quello di poter partecipare o comunque far parte Comunque recitare in un film di un regista siciliano Tornatore ma soprattutto Picarre e Pigone Quindi sul comico? Sì, tantissimo Ma dovendo scegliere quindi un mestiere Tra televisione, cinema e teatro Quale sceglieresti? Beh direi televisione Ok Hai in mente di provare altri concorsi di bellezza? A breve? Sì, spero di sì, spero ce ne sia l'occasione Vuoi ringraziare qualcuno? Sì, innanzitutto appunto ringrazio la mia famiglia che mi è stata vicina Ma soprattutto il comune di Villa Abate Nonché l'assessore Giovanni Pitarresi Che mi hanno dato proprio l'opportunità di partecipare a questo concorso Ma soprattutto ringrazio tutta la gente I miei amici di Facebook e soprattutto i villabatesi Che mi hanno votato ed è proprio grazie a loro E anche grazie alla giuria che ho vinto Invece Canale 8 ringrazio a te Spero in un futuro per te, Roseo Speriamo, grazie a voi per avermi invitata Ciao Questo programma è stato offerto da Un caro saluto e un affettuoso abbraccio Tutti gli amanti del ilmeteo.it Previsioni per venerdì 26 settembre L'alta pressione delle azzorre abbraccia tutto il nostro paese La giornata quindi risulterà splendidamente soleggiata ovunque Ultimi temporali invece su Puglia e Calabria Ecco il dettaglio preparato dagli esperti del ilmeteo.it Al nord cielo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni Nubi assenti e cielo terzo con qualche foschia mattutina sulla pianura padana Al centro il sole dominerà su tutte le regioni per tutto il giorno Il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque Raggiungiamo infine le regioni meridionali dove ultimi temporali riguarderanno la Puglia centro-meridionale La Calabria ionica, ultimi piovaschi anche tra Messinese e Regino Sarà più soleggiato invece altrove I venti soffiano tutti dai quadranti settentrionali Generalmente deboli sui bacini settentrionali Moderati o forti altrove Uno sguardo per concludere alle temperature Minime che subiscono una diminuzione al sud Più o meno stabili invece altrove I valori saranno compresi tra 9 e 23 gradi ovunque Durante il giorno ci attendiamo un leggero aumento su tutte le regioni Le temperature saranno comprese infatti tra 21 e 27 gradi su tutto il territorio italiano Il Meteo.it vi augura di trascorrere un buon fine settimana E vi ringrazio per averci seguito Arrivederci Buona giornata con l'Almanacco Barbanera Oggi è il 26 settembre Si ricordano i santi Cosma e Damiano Il nome Cosma deriva dall'aggettivo greco Kosmos Col significato letterale di ordinato Più incerto il significato di Damiano Che è riconducibile ai verbi greci Damao o Damazzo Domare Ma anche al termine Damos gente Con il significato quindi di uomo del popolo Dice il proverbio Autunno, chiaro e giocondo Anno fecondo Suonati oggi San Francesco d'Assisi Enzo Bearzot Matteo Marzotto Il 26 settembre 1960 I candidati della Casa Bianca John Kennedy e Richard Nixon Si fronteggiano davanti a milioni di spettatori È il primo dibattito elettorale televisivo Il 26 settembre 1990 A quasi 83 anni Muore a Roma Alberto Moravia Infine il 26 settembre 1986 Il WWF celebra i suoi 25 anni ad Assisi La città di San Francesco Papa Francesco ha detto Non c'è bisogno di sprecare tante parole per pregare Il Signore sa quello che vogliamo dirgli L'importante è che la prima parola della nostra preghiera sia padre Arrivederci da Barbanera dal 1762 L'almanacco più amato d'Italia Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera L'almanacco italiano dal 1762 Venerdì 26 settembre Ariete La giornata è appena iniziata E già vi accorgete che non sarà facile Una complicazione di lavoro vi tira giù dal letto e vi dà il buongiorno Raccogliete calma, lucidità e datevi da fare Avendo fiducia nelle vostre notevoli potenzialità Toro La luna fissa in un segno d'aria continua a disinteressarsi delle vostre vicende Lasciandovi da soli a vedervela con dubbi e perplessità La chiarezza di idee che solitamente vi accompagna Oggi vi lascia un po' scoperti Vi serve un aiuto Gemelli La luna oggi sembra non avere attenzioni che per voi Ancora in fulgido trigono e sostenuta da Mercurio e Giove Promette meravigli Di opportunità favorevoli ne avete in abbondanza E disponete della necessaria prontezza per approfittare Cancro La luna ancora è in antipatica quadratura È sempre sul piede di guerra E vi procura un inizio di settimana problematico E anche piuttosto teso Ma per fortuna vi aspetta anche qualche soddisfazione Che raccoglierete in ambito sentimentale Leone giornata proficua Merito della luna ancora per oggi in se stile Da un favorevole segno d'aria di Giove e del dinamico Marte Intuito e fantasia vanno a bracetto Sostenuti da una granitica determinazione Un mix insolito per risultati straordinari Vergine la luna prosegue il suo soggiorno in un segno d'aria A voi del tutto indifferente E vi lascia da soli a vedervila con le vicende quotidiane Ma se ci riflettete un attimo Vi accorgete che la situazione è meno fosca di quanto voi la dipingiate Bilancia la giornata promette proprio bene Con la luna nel segno e generosi apporti di Marte e Giove Aspettatevi grandi cose Non rimarrete delusi L'ultimo weekend di settembre bussa la porta E voi non vi fate pregare Rispondete subito all'invito Scorpione giornata tutto sommato tranquilla A parte un po' di indecisione evidenziata da Mercurio in orbita silenziosa Per il resto non c'è molto da segnalare Tra impegni di routine e questioni private da risolvere Sarà sera ancora prima che ve ne accorgiate Sagittario, una luna amichevole sempre in se stile dalla bilancia Lascia sperare una giornata gradevole e serena Da trascorrere in piacevole compagnia Relazioni interpersonali intense e forse anche molto proficue Non sottraetevi ai numerosi inviti Capricorno, la luna sempre disarmonica dalla bilancia Non promette meraviglie Ma voi non vi scoraggiate Quello che manca ce lo mettete di vostra iniziativa Dubbi, perplessità ma anche la voglia di farcela Fate uno slalom tra i problemi e ne uscite vincitori Aquario, il meraviglioso trigono che la luna vi regala dalla bilancia Punteggia le vostre giornate Con una serie ininterrotta di momenti piacevolissimi Gli amici sono in testa i vostri pensieri Perfetto per organizzare alla grande l'imminente weekend Pesci, tante le decisioni da prendere E poche le persone disposte a consigliarvi e a fornirvi il loro sostegno Dimostrate di cosa siete capaci Dubbi e difficoltà sono le uniche cose di cui disponete in abbondanza Soprattutto in fatto di lavoro Grazie 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 Grazie